Si ferma l'attività dell'impianto di compostaggio di contrada a Brucazzi gestito dal lato CL2. Ieri i carabinieri del NOE hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo. Gli accertamenti sono stati effettuati nell'impianto dove ricade anche la sede dell'ambito. Una comunicazione per il fermo dell'impianto e il conseguente stop dei conferimenti è stata inoltrata a tutti i sindaci del lato. Ci sarà per i prossimi giorni la necessità di conferire in altri impianti che vanno individuati. Il commissario Giuseppe Lucisano ha inoltrato una nota a tutti i primi cittadini informandoli dell'impossibilità di effettuare il conferimento. Continuano invece le altre attività in programma per l'impianto. Le verifiche degli inquirenti sarebbero legate ad anomalie sulla presenza di percolato. I verticiato a seguito del provvedimento forniranno le spiegazioni necessarie agli organi che stanno indagando l'impianto di compostaggio che il CGA ribadito di essere patrimonio Ato serve tutti i comuni della zona ad iniziare proprio da Gela. Sarà necessario procedere rapidamente ad individuare altri siti almeno fino a quando si protrarrà il provvedimento di sequestro preventivo. Pare che ci siano già contatti per i conferimenti con l'impianto di Calat. Sembra che Ato avesse già provveduto inoltre a definire una propria relazione tecnica per individuare gli aspetti legati alle anomalie riscontrate dagli investigatori. Tutto il materiale probabilmente verrà fornito agli inquirenti. Per ora non sarà possibile effettuare conferimenti con un sequestro che ha immediati effetti. Il sistema di compostaggio di Brucazzi è uno dei perni dell'intero sistema locale del ciclo dei rifiuti. Le indagini e le verifiche tecniche sono comunque in corso. I vertici di impianti SRR, la società in-house che gestisce il servizio, sempre ieri hanno già preso contatti con altri siti per conferire la frazione destinata al compostaggio. Impianti SRR copre quasi tutti i comuni dell'ambito, per ora ad eccezione di Gela e Piazza Armerina, i conferimenti dell'in-house quindi troveranno collocazione altrove. L'amministratore di impianti, l'ingegnere Giovanna Picone, esclude quindi che ci saranno ripercussioni sui comuni. In ogni caso proprio l'ingegnere Picone, ritiene sia fondamentale arrivare anche ad un possibile di sequestro del sistema se ce ne saranno le condizioni. A questo punto anche la frazione organica del comune di Gela dovrà trovare una diversa collocazione, seppur in questa fase non ci sia una gestione diretta di impianti, ma ancora in proroga da parte di Tecra che attraverso i propri mezzi dovrà raggiungere altri siti.